... Sono cele piccole che devi viverci in quattro, adesso io, dove sono io, siamo in tre. In tre è giusta, perfetta, diciamo stai bene. In quattro comincia già a essersi, c'è un bagno, un bagno in quattro, lì ci devi fare tutto, lavarti, lavare le cose, fare il caffè, far da mangiare. Mi hanno dato sei anni e ne ho fatti due e mezzo. Per rapina e diciamo errori della vita. Io per droga, la maggior parte insomma. Io ho ancora altri tre anni e mezzo da scontare e ne ho già fatti due, tre, due anni e tre. E da quanto tempo lavori? Da due anni circa. La capienza di Verona è intorno ai 700 detenuti. In questo momento noi abbiamo quasi 1000 detenuti, ad oggi 960. Stare in cella tutto il giorno non è il massimo, e quindi già stare fuori qualche ora dalle celle fa bene anche un po' per la testa, un po' per tutto quanto. Attualmente sono circa una settantina le persone coinvolte in attività lavorativa. Qui si fanno degli assemblaggi, cosa abbastanza semplice che ci permette di stare fuori dalla cella e di insegnarci tante cose. Abbiamo parecchi lavori, box cavalli, pannello termico solare, le bat box, sono le casette dove vanno i pipistrelli. Un'esperienza così lavorativa qua dentro per me serve, è fondamentale. Noi cerchiamo anche di far sì che il lavoro diventi soprattutto cultura del lavoro. Ti serve tanto per darti anche dignità a te stessa. Diventi stile di vita per le persone detenute, proprio perché non sia l'occasionale momento di indipendenza o di miglioramento delle condizioni di vita. Anche un po' per rimantenimento lo stesso del detenuto stesso perché qua dentro, meno male, dei soldini servono sempre. Ti posso chiedere pure quant'è lo stipendio? Diciamo dei 350 e 400. Quante ore lavorate al giorno? Sei ore. Noi nella cifra che prendiamo abbiamo un fondo vincolato tutti i mesi e tu quando esci ti trovi un po' di soldi. Noi nella cifra che prendiamo un po' di soldi.